Speriamo di andare tutti quanti insieme, io sono Matteo, è un piacere intanto, 5 km facciamo e facciamo delle scivoli, partiamo poi vediamo altre cose, vai Ciao Avanti tutta Avanti, non indietro, avanti Tu ti devi reggi a me, ti sto tranquillo, che fa pace per me Tu ti devi reggi pure qua Ma chi sta la cascata qua? Dalla cascata grande? No, qua papà ci fai i campionati mondiali Avanti, non ti fermate per favore Dai bagagliate di là Tutti i quarti per favore, anche lei Bagagliamo? Bagagliamo? Stop! Ha detto stop! E oggi da papà La bagagliati da voi per la cosa Stop! Ragazzi ascoltate i comandi che consigliamo, va bene Altrimenti ci mettiamo il doppio del tempo e il doppio della fatica, solo per quello Io voglio fare le cascate grosse Io voglio fare le cascate grosse Tu devi reggi, devi stare tranquillo e basta Io voglio fare le cascate grosse Vai, qualche pagagliata in avanti Stop! Un bel sorriso per Antonio sulla sinistra, ti raccomando No, non sia nulla Una nulla No, non sia nulla avanti dai muoviamoci un po' dai devi andare con Rossella guarda sempre il primo la fa cagliata profonda dai che li stiamo riprendendo va bene stop riposatevi un po'